Non sono in Italia, anche in Africa a volte lo usano. Si chiama, no ma perché è un amico africano perché i musicisti si comunicano con il blues. Allora io dico, ma forse è assinta, quindi devo fare un blues. Che ho su una mail qui perché è un pezzo bellissimo di bodydly. Forse ci vuole l'ukulele. Che idiota. Allora. Cioè sto andando a cercare la mia... No perché sono nella modalità aereo e quindi non si collega. Cosa? Ovviamente. Beh io comunque ritornerò verso la memoria. Mi maggiore? 1, 2, 3, 4. Before you accuse me Take a look at yourself Before you accuse me Take a look at yourself Grazie. Grazie. Grazie.